Centri per l'impiego Centri per l'impiego Centri per l'impiego Presidente Saita, in questa situazione di crisi generalizzata, quale ruolo svolgono i centri per l'impiego della provincia di Torino? Beh, in tutto c'è da dire che i centri per l'impiego della provincia di Torino non sono più i vecchi uffici che dipendevano dal ministro del lavoro, che erano uffici burocratici dove si compilava un modulo e poi si aspettava che capitasse qualcosa. Attualmente i centri per l'impiego invece forniscono informazioni, danno orientamento, fan preselezione, favoriscono l'inserimento lavorativo. Certamente in questo momento difficile dal punto di vista economico noi sentiamo la pressione perché le agenzie private di fatto stanno chiudendo e quindi tutto si riversa sui centri per l'impiego. I nostri centri per l'impiego oggi sono attrezzati, hanno strumenti informatici, diamo informazioni come dire su tutto ma soprattutto cerchiamo di mettere assieme domande e offerte. Sono dei centri dove vanno anche le imprese, quindi si cerca di cogliere tutte le opportunità per l'inserimento lavorativo. Certamente non siamo in grado di dare risposte a tutte le domande che derivano da questa crisi, siamo perfettamente convinti, ma in ogni caso lì ci sono una serie di notizie, una serie di informazioni, una serie di supporti in modo da indirizzare il lavoratore che cerca la possibilità di trovare un lavoro e di indirizzarlo nel modo migliore. La provincia di Torino si occupa anche delle persone disabili o appartenenti alle categorie protette. Basta rivolgersi al centro per essere accompagnato nella ricerca del lavoro e nel percorso di inserimento nell'azienda, anche grazie alla collaborazione con servizi sociali e asla del territorio. Informazioni, orientamento, consulenza e reali opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Questo è quello che offrono i centri per l'impiego della provincia di Torino.